Oggi in tutte le 182 città ci sono le manifestazioni contro i cambiamenti climatici. A favore di una tutela del clima partecipano soprattutto studenti e associazioni. Il Consiglio Comunale parteciperà con una delegazione quando passerà da queste parti. Questo è l'Italia e il mondo che ci piace. Saranno soprattutto i giovani a salvare il pianeta. Lo stanno dimostrando in tantissimo in tutto il mondo. A cominciare la Greta, giustamente candidata, come mi auguro, a premio Nobel per la difesa proprio della madre terra e del pianeta. Noi dal basso, nonostante i governi nazionali, sui cambiamenti climatici stiamo facendo tanto. Al di là dell'adesione formale che abbiamo dato come amministrazione a questa manifestazione, il Consiglio Comunale parteciperà con una delegazione. Vorrei ricordare le delibere che stiamo approvando. Addirittura un logo nella giornata di ieri, OBC, ossigeno bene comune, nella città che unica e prima ha reso tutta pubblica l'acqua, che con le parole del Papa viene ricordato essere il primo bene comune del pianeta. Quindi qua non si fanno solo parole in questa città, ma tanti fatti. E quindi anche Napoli dimostrerà che sarà in prima linea, anche nell'imminente futuro, non solo nella difesa dei diritti e delle libertà civili di cui abbiamo assinora parlato, ma anche del pianeta, nella lotta tra ossigeno e anitride carbonica, tra ossigeno e appunto emissioni di CO2. Grazie. Grazie. Grazie.